Andiamo a Lausanne, usciamo dal Ticino, andiamo da Ada Marra che è con noi da Lausanne che saluto. Ringrazio di essere ospite della trasmissione. Per lei il concetto di patria, sul quale abbiamo un po' ragionato in questo inizio di trasmissione, che cosa significa? Ma la patria è ognuno che definisce cos'è la propria patria. E si vede che in Svizzera in questi ultimi anni, 15-20 anni, c'è una lotta per escludere chi è e chi non è svizzero. Per me, chi è nato qua, chi si impegna in società, chi lavora, studia in Svizzera. E oggi abbiamo troppi stranieri nelle statistiche, chiamati stranieri, che invece non sono stranieri, perché c'è la seconda, la terza generazione. Questo è il concetto. E poi il patriotismo, per me, devo dire, non sono i slogan, non è un sentimento, sono i fatti. Cioè, chi in Svizzera si impegna per i cittadini Svizzera e chi abita, riconoscendo i problemi che ci sono in Svizzera. Perché per me ce ne sono due o tre, che sono ovviamente la cassa malati e le prime che pagano le famiglie. Chi non ha abbastanza per vivere, ci sono sempre più working poor, eccetera, eccetera. Le soluzioni le bisogna portarle avanti e io credo che ci sono partiti che, malgrado i slogan che dicono, appunto, perché era molto interessante quello che ho seguito in questi minuti, perché tutti hanno parlato di definirsi svizzero in confronto dell'Italia, della Francia, della Germania. Ma definirsi svizzeri è come viviamo insieme noi e quello è l'importante. Non contro gli altri, ma che facciamo nel paese per la gente. Che cosa facciamo nel paese per la gente? Ma c'è anche l'aspetto di che cosa facciamo tra di noi per capirci, per avere una visione comune. Perché questo è uno dei problemi che può avere anche questo paese. Lei ha ragione. Magari mancano dei collanti, talvolta. Ma non è che mancano i collanti. In fondo la Costituzione ci accomuna tutti, perché la rispezziamo e ci crediamo, quella federale. Poi c'è questa tendenza a creare dei sondorfali. Il Ticino, mi dispiace dirlo e lo dico con tanto affetto e senza arroganza, è un po' colvallese, un po' specialista, per dire siamo diversi perché ci sono i frontalieri italiani. Beh, Ginevra ci sono i frontalieri francesi, eccetera. Quindi bisogna evitare questo tipo di identità. In Ticino avete questi giornali in cui si parlano in dialetto, eccetera, eccetera. A me risulta che l'italiano è la lingua ufficiale d'Italia. E c'è in Svizzera, scusi. E quindi questa tendenza a ripiegarsi in identità specifiche, dire c'è il sondorfale, bisogna evitare. E una delle cose molto pratiche è l'insegnamento delle lingue. Quando ascoltiamo che in Svizzera tedesca, per esempio, non vogliono più insegnare il francese, ma mettere l'inglese al posto dell'italiano o del francese, voi avete il problema dell'italiano che lo volevano anche tagliare, è un problema per la Svizzera. Adamarra, sulla Svizzera più sociale, mi piacerebbe una Svizzera più sociale, diceva uno dei nostri radioascoltatori e probabilmente anche i nostri telespettatori di questa sera. È vero. Prima vorrei rispondere molto velocemente al signor Galeazzi, ricordando che per ogni posto di lavoro e ogni lavoratore c'è un datore di lavoro. Quindi è inutile dare schiaffi sui lavoratori, ma prima forse sui datori di lavoro. Comunque, rivenendo alla Svizzera sociale, questa persona aveva molto ragione, perché secondo me la Svizzera si è costruita su una solidarietà. Vediamo le assicurazioni sociali. C'è chi lavora e chi è disoccupato, c'è la cassa integrazione, c'è il pensionato e chi invece sta in attività lavorativa e c'è l'AVS, eccetera, eccetera. Purtroppo oggi constatiamo un movimento contrario, cioè c'è questa pressione enorme per fare economie sulle prestazioni dello Stato. Oggi lo scopo sembra essere il meno Stato possibile. Perché? Perché abbiamo anche in Svizzera, parliamo della nostra democrazia, il signor Pini l'ha detto molto bene, l'ha descritta il federalismo. Oggi abbiamo una pressione di rappresentazione dei lobby sul Parlamento, penso agli azioniari, per esempio, delle casse malati, che stanno rappresentati dai politici, dai consiglieri nazionali in commissione, che fanno le leggi non per i cittadini e le persone che abitano in Svizzera, ma per il consiglio amministrativo e gli azionari della cassa malati. Questo è un esempio, infatti. La Svizzera, per essere patrioti, bisogna lavorare per le persone e non per gli interessi settoriali. E oggi, purtroppo, ma è danno questa storia, ma oggi è molto più evidente perché le persone sono più formate, riflettono, non dicono sempre sì al prete, al PPD, al Partito Socialista, riflettono da solo e constatano che ci sono delle cose che non sono giuste. In questi giorni c'è tutta la storia delle riserve, delle casse malati, appunto, da chi ha pagato di più, chi ha pagato di meno. Allora, questa situazione, poi c'è questa tendenza a confrontare uno svizzero contro l'altro. Ah, ma io ho pagato per te, eccetera, eccetera. Quindi le soluzioni bisogna trovarle, ma finché ci saranno tutti questi lobby in Parlamento e questi interessi settoriali, purtroppo non andremo avanti. E purtroppo, devo dire posto a zitta, che i partiti di destra in Parlamento vogliono tagliare. Io non ho trovato un vuoto, guardando, in cui le prestazioni sociali non vengono tagliate dalla destra, che è maggioranza in questo Paese.